ciao sono Alice è uscito il nuovo volantino Konad guardiamolo insieme se vuoi scoprire tutti i segreti dei volantini e fare i tuoi acquisti in modo ancora più consapevole visita anche il mio blog su trova volantini vuoi vedere un altro volantino scoprilo subito su trovavolantini.it 80.000 iscritti raggiunti grazie di cuore ora con il vostro sostegno puntiamo dritti ai 100.000 80.000 volte grazie grazie a tutti che ne pensi di queste offerte? scrivi nei commenti e aiuta gli altri a scegliere prodotti migliori e tu in quale negozio vai? scrivi nei commenti ciao 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 Su TrovaVolantini.it le offerte della tua città a portata di un click Grazie per la visione 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 Grazie per la visione